Oggi raga come primo video da PS4 vi ho portato Fortnite Penso che tutti voi lo conoscete ed è appena uscita da poco la season 4 capitolo 2 Fatemi sapere se nei commenti vi piace, a me piace un sacco E ora come primo gioco da PS4 andremo a fare una partita in singolo con Fortnite Vediamo cosa nasce fuori Cerchiamo di fare tante kill e una bella vittoria reale Ma non penso come prima partita ce la faremo Perché non ho fatto neanche creativa Ho detto vai buttiamola lì, registriamo E ora vediamo cosa succede Prima partita Cerchiamo di fare un sacco di kill E non farci ammazzare subito Come prima partita potrei anche morire subito Però credo che per la seconda ce la farò Dai proviamo Come vedete questa è la navicella Navicella poi Di Avengers A me non sono molto appassionato Però le skin di Fortnite degli Avengers mi piacciono un sacco E poi qua le navicelle Andiamo 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 a sabbia Come sempre avete 5 secondi per lasciare like 5, 4, 3, 2, 1 E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Ora buttiamoci a sabbie E cerchiamo di ammazzare tutti E soprattutto non morire subito Io non vado sul palazzo grande Perché Cioè perché Non lo so perché Però non vado sul palazzo grande Vado sempre in queste casette qui Con tante porte Ok Andiamo andiamo Dov'è la cesta Ah qua Dai pistoletta Non mi faccio lo scildone Aspetto gli scildini La cosa brutta del martello di toro È che Guardate Appena Lo lancio Cioè che mi viene Non posso piccionare È la cosa brutta Dove si è entrato qua Ero venuto a lottare Un po' Non c'è niente Di solito trovo Trempare le ceste Tutto Che? Hanno aggiunto una nuova canna da pisca Che figo Guardate con il coso della banana Tanna da pisca da professionista Figo Andiamo un attimo qua Che mi sembrava che c'era una cesta No Non c'era una cesta Però mi sembrava qua sotto che c'era Quella là che devi scavare O pompa Capiamoci Dov'è quel? Ok Ok Prima kill Andata A me sto pompa non piace Non so voi Ma a me non piace Che mette troppo tempo Si toglie un botto Però Non mi piace proprio Non mi fa impazzire Ah Dai cerchiamo di vincerla Già tanto che ho fatto una kill Cioè Cioè diciamo che una canna normale Non so perché si chiama da professionista E poi è blu Voglio provare a piscare dopo Però lottiamo prima un po' Che non siamo messi proprio bene Io continuo a trovare pistole Non ci posso credere Raga non c'è nulla Guardate non mi fa picconare subito Raga Raga Machina No Non salgo Ok Ok Mo questo è sceso Oh pistola blu Siamo in safe Ma raga Non c'è niente E' impossibile Ma guarda come c'è una pistola Di nuovo il pompa schifoso Finalmente Un vampa Tiriamoci un attimo Snow medikit E poi possiamo Di nuovo la macchina che è partita Raga Sentite Io me lo faccio Lo scelgo Anzi no 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 Perché ci sono ancora altri cesto Sopra Sì Raga scusate Se era un attimo Disconnesso il controller Ok Sto pensando Se prendere le cura bombe Cioè Volevo dire Prendere l'assalto con mirino O questo Ragazzi Ragazzi a volte non mi sentite Perché il joystick Si disconnesse Si disconnesse E allora E allora Devo metterlo a carica Allora Mi inizio a fare Un attimo Le splash Come facciamo così E mi porto E mi porto l'assalto Ok Ok Ho voglia di Faitare L'avevo detto L'avevo detto che Ne era valsa la pena Aspettare Per lo scildone Penso è sopra Ma non voglio romperla La cesta Ok Raga dov'è Ancora più sopra Aspettate Mi sono impicciata Ok Cosa è uscito Mamma mia Qualcosa di meglio Tiriamoci una splash Ok Siamo ancora in safe Ce ne siamo in 33 Guardate la safe Come è grande Ora diventa Piccolissima Sicuro Inizio a farmi Un po' di mazza Perché Se no Qua non posso Faitare Soprattutto legno Mi serve Mi raccomando Che a 13 mi piace Mi porterò una live Su fortnite E poi se la live Arriva un bel po' Di mi piace Io vi porterò un altro video Io vi porterò un altro video Cerchiamo di bussare Cerchiamo di bussare Ok 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 A proposito Io la lascio Sta canna da pesca Poi magari in altro video La proviamo Qua sbaglio Vediamo la musica L'impennata del secolo Mamma mia Già Già Saurito Ma dai A proposito No no Che ho fatto Mi travesto un attimo Fatemi sapere Se tutte le skin Del fast battaglia Vi piacciono E soprattutto Se vi piace Del fast battaglia Prendo le lucciole Perché se uno Builda come il pazzo Almeno io ce le tiro Dov'è? Ce ne sono altre No Penso di no Cioè guardate Questa canna da pesca qui Sono tutte bianche Quella lì No Raga Non c'è nessuno Lo stanno tutti Camperando Cioè praticamente Sto andando solo in giro Ora prendo L'elicottero Che è là Ho sbagliato Che è là Vedete Aspettate le lucciole Ok Altre Prendiamo L'elicottero E cioppa E vediamo Se troviamo qualcuno A 6 Ci dovrebbe stare Qualcuno Ecco infatti L'avete visto? No Ragazzi Sono cose di quello Meglio andarsene Perché con quei cosi Ti fanno fuori Subito Vedendo Se c'è gente Ma non ne vede Come si fa? Aspetta Vabbè Non fa niente Volevo lutare Quella casetta Volevo lutare Ah Sembrava che c'era Un nemico I'm in safe Qua però lutto Mi è caduto L'elicottero Addosso Andiamo Non c'è nessuno Neanche qua Andiamo a lutare La casa Guardate Raga Solo pistole Andiamo a riprendere I due colpi Ormai Raga Raga passi C'è quello là Ok È morto Bella Aspettate Al posto della pistola Mi prendo Sto la mitraglietta Aspettate Mi aggiusto Un attimo L'inventario Come lo metto io Ho sbagliato Ok E lottiamo un attimo Questa casetta Prima che arriva La safe Andiamo Che poi Qua non ci sono mai Andato In questa parte Secondo me l'hanno Appena aggiunta Cecchino Cecchino No Non lo porto Però mi porto Il medico Che almeno Se è qualcosa Abbiamo la cura Uh Mitraglietta Tattica Buonissima Pompa Ragazzi Non c'è la cesta È rarissimo Che non c'è la cesta In una casa Vabbè Meglio uscire Che qua Moriamo dalla safe Andiamo Comunque Ne siamo in 5 E io ho 2 kill Va Vabbè Andiamo Ci prendiamo Anche il cioppa Io Non pretendo Così tanto Alla vittoria Perché Guardate Che loot Ci ho Per favore Aspettate Mi prendo Questa cesta No Sapete Il vampa Me l'ho porto Non lo cambio Con la R Ok Ok Riprendiamoci Il cioppa No Raga Perché non me lo fa prendere Raga Si è buggato Perché Raga Vabbè E' sempre Forte Il gioco Ricordate Tutto pieno Di glitch Ok Ora Me lo dovrebbe Far prendere Ok Andiamo In safe Ancora Una volta Io Raga Sapete Che vi dico Io mi tengo Il cioppa Per tutta La partita E poi Se c'è qualcuno Lo push Ecco Come l'ho detto Oh no No Pensavo Che qualcuno Aveva potenziato L'arma Raga Ma sicuro Che sti tre C'è Sti due Stanno qua Io Non vedo Nessuno Ah Eccone uno L'ho visto Dai Cerchiamo di fare Questa vittoria Prima partita Del giorno Due kill E ne siamo in tre No Raga Quello mi sembra Forte Zitti Zitti In questi casi Non dovrei Camperare Però Raga Aspettate Proviamoci un attimo La testa Oh meglio 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 Raga Sapete una cosa Una strategia Io li faccio Prima Ammazzare Tra di loro Raga Ne siamo in due Raga 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 Ho troppa paura Dai Raga Ma dove sta Ma dove sta questo Mio dio Sento costruire Raga Questo è un pazzo Sta facendo esplodere Tutto Noi ce ne siamo Qua Raga Sapete che vi dico Ma dove è Prima cosa Raga Dove Raga No veramente Dove sta Ok Vedete i passi Sta allontanando Raga Ho troppa paura Di morire Raga Sapete che vi dico Io mi porto il medikit Ok Ma visto Forse Dai Vabbè Questo spam Mamma E ora Tocca a me No raga Mi ha scioltato Mi ha sciolto Mi devo coprire Raga Questo è il mostro È un mostro No Raga Non ci posso credere Uno Vi uno E perdiamo All'ultimo Non ci posso Credere Vabbè Questa era forte Ma molto Ritorniamo in lobby Era molto forte Non ci posso Credere Uffa Raga Ci stavo Credendo Non ci posso Credere E vabbè Noi Per questo video Possiamo Concludere Ricordatevi Di iscriverti Al canale E lasciate Un bel like E che dire Vabbè Alla prossima